Grazie Presidente. Con i colleghi del gruppo dei socialisti e democratici abbiamo recentemente inviato una lettera ai tre presidenti Juncker, Deisser, Blom e Draghi sulla questione della contrattazione collettiva in Grecia a seguito della messa in atto del memorandum. Una situazione assolutamente spiacevole che di fatto ha costretto il governo greco a decentralizzare, svuotando di valore il sistema di contrattazioni collettive nel Paese. La risposta della Commissione ci lascia perplessi. Da un lato si riconosce la gravità della situazione occupazionale, salariale, la crescente povertà. Si ammette la massima attenzione da parte della Commissione al rispetto di diritti fondamentali e sociali, ma allo stesso tempo si fa notare che il memorandum agisce al di fuori dei diritti europei e quindi tecnicamente tali diritti non si applicano alla messa in atto delle misure imposte. Vorrei sottolineare ancora una volta imposte alla Grecia. Io credo invece che la Commissione europea, questo Parlamento e tutte le istituzioni debbano sempre battersi affinché i diritti dell'Unione siano sempre applicati. La Commissione è il guardiano dei trattati, così mi è stato insegnato.